Ha temuto per questo ballottaggio e è stato sempre sicuro di vincere? No, mai sicuro di vincere. Abbiamo lavorato fino alle due e mezza con gli amici e mi hanno dato una grande carica loro. Perfetto. Dove e perché ha vincito? Non lo so, basta vedere le persone intorno. Qui c'è una bolge. Perché abbiamo vinto? Filippo! 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 Ha vinto il vecchio o il nuovo? Ha vinto il vecchio o il nuovo? Sicuramente il nuovo perché guardiamo al futuro, il passato non ci interessa. E' andata, guardiamo avanti, guardiamo avanti. Chi si sente di ringraziare? Tutti, tutti quelli che vedete qua intorno sono tutti amici cari con i quali abbiamo condiviso un bel passaggio. Naturalmente i cittadini che hanno voluto dare la fiducia al sottoscritto e in maniera non retorica l'hanno detto, l'ho fatto in passato, sono il sindaco di tutti sicuramente. E' difficile questa domanda perché adesso sono preso dai festeggiamenti. Niente, andremo a vedere in comune quello che ho già detto in campagna elettorale per viaggiare subito verso il futuro della nostra città. E c'è una squadra di governo da mettere insieme? Eh sì. E' la cosa più complicata, ma assolutamente complicata per gli altri. Io già conosco le persone, conosco gli uomini, conosco le nostre donne, gente con grande passione e troveremo subito una sintesi. L'ultima è la parte mia, col cuore comunque a posto e lo sindaco. Bevando alle polemiche. Stamattina alle nove era una cosa fatta di istinto perché purtroppo certe volte in campagna elettorale si fanno anche le cose di istinto, non si nazionalizza molto, qualcosa può dar fastidio, però è chiaro che poi a freddo si ragiona meglio.